Salve, benvenuti alla dodicesima edizione del Giro delle Botte. Dopo il successo dell'anno scorso siamo qua di nuovo e qua presenti, anzi devo dire che questa sera abbiamo anche con noi l'onorevole Sciotto, che darà il via, non abbiamo mai avuto una persona politica che ha fatto questo, quest'anno invece lo faremo con l'onorevole Sciotto, la persona del 38, direttamente con noi. Sì, questa è la dodicesima edizione se non sbaglio e sono sicuro che andrà bene come del resto di tutte le altre. Quando la Catabba si mette ad organizzare questi eventi non fallisce mai e ho sentore che questa volta ci saranno migliaia di persone che verranno a degustare le cose che state preparando e ad ammirare le nostre bellezze anche in un clima molto particolare, che è quello dell'inizio dell'inverno e illuminato dalle vostre urbinarie e dalle vostre belle degustazioni. Ci sarà anche quella musica. C'è anche molta decorazione. Molte decorazioni. E anche io sono felice di avere qui l'onorevole Sciotto che darà il via a questa edizione. Onorevole. Grazie Sindaco e ringrazio il Presidente per averle presentamente invitato. Per me è un onore essere qui perché è un luogo bellissimo, una manifestazione bellissima, fermata ormai da tantissime edizioni. Confidenti a voi, complimenti a questa meravigliosa cittadina. Il Presidente Sindaco e buon lavoro a noi e alla sua amministrazione. Andiamo a degustare. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.